La regina di Ciccio Cozza brinda al primo successo stagionale. La squadra Maranto festeggia in trasferta sul campo della Paganese nella gara valevole per la seconda giornata di campionato. Al contrario di quanto accaduto contro la Casertana, questa volta Rizzo e compagni non si fanno beffare. Con la Paganese si portano in vantaggio, calano il raddoppio e lasciano solo le molliche agli avversari. Al Marcello Torre succede tutto nel secondo tempo. Dall'Oglio inventa una parabola imprendibile direttamente dalla bandierina e firma l'1-0 al 52esimo. 15 minuti più tardi di Lorenzo lancia Roberto Insigne per lo scugnizzo di Napoli e arriva il terzo gol stagionale. Il secondo della regina alla Paganese, praticamente mai in partita. I campani fanno qualcosa in più nel finale quando arriva la rete della bandiera azzurro stellata. Un gol che serve a rendere meno amaro il boccone da mandare giù e che probabilmente avrà fatto arrabbiare Cicciocozza negli spogliatoi, ma il tecnico amaranto può dormire sonni tranquilli. La regina c'è e dopo la prestazione di Pagani lo avranno capito anche le più dirette concorrenti.